Non era per Jeremy il colpo di tacco, Jeremy! Riparte l'Atalanta, il colpo di tacco, Morales, io ho paura e adesso lo so, gol, e lo so, lo so, ma è normale, ma ragazzi, ma basta però con sti colpi di tacco, basta con sti colpi di tacco, è certo che fa un gol, certo! Gol di Denis, certo che fa un gol, normale, ci stavamo riprendendo, ci stavamo riprendendo, niente! Si rialza del grosso, adesso metto la... basta, 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 non è una cosa seria, non è una cosa seria, va bene i mezzucci, ma non è una cosa seria, prima fa la rovesciata, poi si inventa che hai i crampi del grosso, va bene, dai! Io onestamente terrei la palla, adesso viene espulso Inzaghi, espulso Inzaghi, dal signor russo di Nova, la rimessa di Abate, andiamo ora a me, teniamola qua, sì ma mi sembra giusto, stavolta non facciamo applaude San Siro, stavolta non la beccate, poi perdiamo ma stavolta non la beccate, Menez, Menez...